Siamo a questo momento, a questa inaugurazione, faremo la benedizione proprio per gli uffici, i negozi, i laboratori che servono, stati attenti poi alle parole perché la benedizione ha un significato, non è come molti vengono a benedire la macchina e dicono, beh Don Angelo ha benedetto la macchina, posso andare a 150, 160, 200 all'ora, quindi bisogna rispettare con le norme naturali per vivere bene per se stessi e per gli altri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare la sua creazione, sia con tutti voi e con il nostro Spirito. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, vuole essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile ufficina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione conseguenza del peccato e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione. Così è associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità, va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per le decisioni di Maria e Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno lavorare in questo luogo. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, partito di là, Gesù andò nella sua patria, e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella senagoga. E molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano, «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è me questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costruito a pentieri figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Orses, di Giude e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Essi scandalizzavano di lui». Parola del Signore. Glorie a te, oh Cristo. Abbiamo ascoltato alcuni versetti del sesto capito del Vangelo di Marco, che ci presenta l'umanità di Gesù. Molte volte, vedete, l'uomo rimane scandalizzato nel vedere alcuni gesti concreti che uno fa. Invece è il lavoro che l'uomo fa e lo fa con un amore che santifica, vedete. Non è che io, se faccio l'ingegnere o non faccio lo spazzino, quello è buono e quello no. No, dipende come lo faccio, vedete. Come faccio questo? Come faccio questa? La stessa cosa, vedete, nella nostra vita quotidiana. E questo arricchisce, vedete, la vita spirituale. Anche Gesù ha dovuto trovare queste difficoltà, vedete, la gente diceva «Ma non è questo il figlio del carpintiere, vedete?» Perché vedeva un Gesù troppo umano. Vedere una persona, un esempio concreto, un prete che prende la scopa, che spazza a terra, dice «Ma no, io queste cose non le faccio, vedete?» È preferibile un prete stare sulla poltrona che con la mazza in mano, vedete. Così, vedete, certamente stiamo per dare questa benedizione perché è fatto di tanto lavoro manuale, vedete, perché c'è bisogno, anche i dolcetti che hanno preparato, c'è bisogno di tanta attenzione, di tant'amore, tanta passione e più uno ci mette il cuore e più, vedete, comunica e coraggio e anche proprio su quelle cose che noi mangiamo. Adesso evochiamo ecco il Signore dicendo «Guide e sostieni, Signore, è l'opera delle nostre mani». «Guide e sostieni, Signore, è l'opera delle nostre mani». «Sì, benedetto il Signore che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiama a scoprire le energie e le risorse della natura per mettere al servizio del progresso umano», preghiamo «Guide e sostieni, Signore, è l'opera delle nostre mani». «Sì, benedetto il Signore che hai voluto come artigiano nella bottega di Nazareth, il tuo figlio fatto uomo per noi». «Guide e sostieni, Signore, è l'opera delle nostre mani». «Sì, benedetto il Signore che dall'offerta del pane e del vino, frutto della terra del nostro lavoro, hai fatto i segni sacramentali del sacrificio eclistico», preghiamo «Guide e sostieni, Signore, dell'opera delle nostre mani». «Inalziamo al Padre e con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato». «Padre nostro, che se in i Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua bontà, come in Ciro così in terra. Dadaci oggi il nostro pane quotidiano, rimettia a noi i nostri debiti, come noi ribittiamo i nostri debitori, e non ci giude l'intenzione, ma ricarici dal male». «O Dio, Creatore, Padre, che è affidato alla terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua providenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità, e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società». Per Cristo nostro Signore. «Amen». Ecco la benedizione che abbiamo invocato, sia per gli acquirenti, tutti i clienti, ma anche chi fa parte di questo luogo che deve lavorare. Però devono osservare due cose, vedete, la benedizione. È una risposta reciproca, vedete, la giustizia e la carità. La giustizia, vedete, ognuno deve dare quello giusto, né il proprietario deve imbrogliare il cliente, né il cliente deve imbrogliare il proprietario, in poche parole. E poi la carità, vedete, la carità è la sintesi, è la terza virtù teologale che esprime che cosa? L'amore, ma dietro questa parola possiamo dire ci deve essere l'accoglienza, la benevolenza. Se una persona va in un negozio e si sente accolto, vedete, ritorna di nuovo. Se uno dice «sono andato in quel negozio, quando era accida quella persona, vedete, può essere la persona più importante della città», non ci torna più. Allora, vedete, è importante reciprocamente sia le persone che entrano, sia i clienti che chiedono, ma anche chi lavora, devono vivere questa esperienza, l'amore e la giustizia, per il bene e poi della società. Adesso compieremo un gesto che ci ricorda, ecco, l'adesione a Cristo, che è la pietra fondamentale che ci sostiene. Ravivi noi, oh Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci unisce e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Allora, prima di tagliare, fatemi ringraziare. Oggi è una giornata felice per la nostra città, per il gruppo Ladisa. Io devo dirvi che tengo particolarmente a questa inaugurazione, perché diamo una risposta definitiva, organica e strutturale a un'esigenza della nostra città, che era quella di garantire ai nostri bambini una ristorazione all'altezza della importanza che si hanno per tutti quanti noi. Di questo devo ringraziare il gruppo Ladisa, che si è aggiudicato una gara assolutamente regolare e che, dopo questa aggiudicazione, ha lavorato in perfetta sintonia con l'amministrazione comunale, perché si realizzasse questo centro che ho avuto il privilegio di vedere in anteprima e che vi sorprenderà piacevolmente, come ha sorpreso piacevolmente me. Siamo partiti da un tempo in cui non si sapeva quando iniziasse la mensa scolastica, non si sapeva quanto durasse e eravamo sempre afflitti dal problema dell'emergenza quotidiana. In un anno di tempo, grazie all'impegno della ditta giudicataria e se permettete all'impegno di questa amministrazione, siamo in grado di dire che da quest'anno e per i prossimi anni abbiamo delle certezze. Sono finiti i tempi delle determine fasulle inviate alla casa madre Ladisa per testimoniare un falso pagamento di quanto il comune doveva. siamo all'epoca in cui l'amministrazione comunale e il gruppo Ladisa collaboreranno per alcuni anni assicurando questo servizio con una data certa, con una qualità eccelsa. È una soddisfazione particolare il fatto che abbia realizzato questo investimento, una ditta di Cerignola che io vi segnalo perché si tratta di imprenditori locali che si sono guadagnati la fiducia di imprenditori che vengono fuori Cerignola ad investire il loro denaro nella città di Cerignola attraverso imprese che fanno capo al nostro territorio. Fatemi dire anche un grazie ai dipendenti della Ladisa che se alcune sconglusionate richieste di qualche sconglusionato consigliere comunale fossero state accolte, oggi sarebbero senza un posto di lavoro, i nostri bambini sarebbero senza il servizio di ristorazione, le nostre scuole sarebbero senza il tempo pieno, le nostre famiglie non saprebbero come custodire e vigilare i figli non avendo questo importante servizio. Mi fa particolarmente piacere che questa inaugurazione coincida con un momento difficile per la nostra città, la nostra città che viene ad essere oggetto di atti criminali che tutti quanti noi condanniamo, che vengono però strumentalmente utilizzati da qualcuno per dipingere Cerignola come un posto del Far West. Cerignola è parte offesa di questi episodi, Cerignola si stringe attorno alle forze dell'ordine che contrastano questi fenomeni dando loro tutta la solidarietà e l'appoggio possibile, ma che non passi il messaggio che Cerignola è terra di nessuno perché non è vero, questa è terra di lavoratori, è terra di imprenditori e fatemi dire di imprenditori anche che provengono da fuori Cerignola che hanno fiducia nello sviluppo della nostra città. Grazie a tutti. Bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 veramente imponente, è un momento felice perché è stata realizzata con l'imprenditoria di Cerignola, con gli operai di Cerignola, con investimenti che vengono da fuori Cerignola e si indirizzano a Cerignola. Adesso il vicepresidente della provincia ha brindato con simpatica ironia ai gufi, più ci sono auspici negativi per questa città, più noi troviamo motivazioni ulteriori per lavorare per questa nostra città, che stiamo piano piano cambiando. Allora permettetemi di ricostruire i fatti, siamo partiti da un servizio mensa che non si sapeva quando iniziava, non si sapeva quando finiva, era allocato nella zona industriale in uno stabile che era un'ex camiceria, siamo passati con un anno di lavoro a sapere matematicamente che la mensa comincia il 3 ottobre e finisce il giorno in cui finiscono le lezioni nelle scuole, siamo passati da un centro di cottura arrangiato a una realtà che è la migliore della regione Puglia, mi diceva Sebastiano Ladisa, abbiamo garantito i posti di lavoro, abbiamo garantito il tempo pieno nelle nostre scuole, abbiamo garantito i posti di lavoro alle maestre che hanno bisogno del tempo pieno per avere collocazione lavorativa a Cerignola, pure qualche maestra che ha tifato contro questa amministrazione, quindi siamo assolutamente contenti, è la risposta che è migliore che potesse dare Cerignola agli ultimi fenomeni di criminalità, noi non ci facciamo intimidire, non ci facciamo spaventare, soprattutto non si intimidiscono e non si spaventano gli imprenditori che hanno individuato come il gruppo Ladisa Cerignola come sede dei loro investimenti, credo che sia veramente una giornata felice.